Salve a tutti, a volte non sappiamo se ridere o piangere, ma per quello che accade sul nostro territorio, per le cose che giornalmente viviamo, sicuramente propendiamo per la seconda ipotesi, ovvero per le lacrime. C'è da piangere per tutto, quasi tutto. Una volta si diceva che da queste parti c'è solo il calcio, meno male che c'è il calcio. Ora, nemmeno più quello è in grado di alleviare i dolori, anzi, anche sotto quel punto di vista è un pianto amaro vista la situazione del Foggia, in piena caduta libera e con un futuro che fa paura. Meglio stendere un velo pietoso. Tuttavia, almeno in questo spazio, non è di calcio che vogliamo parlare, perché lo facciamo poi nei nostri telegiornali, lo facciamo con le trasmissioni, lo facciamo con la pagina sportiva. E allora, dicevamo, non è di calcio che parliamo, ma parliamo d'altro. Nei giorni scorsi abbiamo registrato, per esempio, il grido di dolore di amministratori locali e cittadini di tanti comuni dei Monti Dauni. Beh, che dire, forse nel terzo mondo stanno meglio. Comuni interi, completamente isolati, privi di ricezione di rete telefonica, estraniati dal mondo della rete, senza internet, che oggi lo sappiamo, no? È vitale. Insomma, per intenderci, in Sudan, con tutto il rispetto per il Sudan e per l'Africa, stanno decisamente meglio. Per carità, non è che questa situazione è presente solo nei Monti Dauni, perché anche sul Gargano, in molti casi, la questione si pone in maniera simile. Per non dire che anche a Foggia, città, capoluogo, ci sono zone dove, per esempio, non c'è la fibra, non arriva. Si va avanti ancora con la DSL, come 20, 30 anni fa. Siamo messi, insomma, davvero male. E ci viene da ridere quando sentiamo parlare di digitalizzazione. Andatelo a dire a quella gente che vive a Bovino, o a Troia, o a Motta Montecorvino. Nella migliore delle ipotesi vi manderanno a quel paese, e questa volta non in un paese dei Monti Dauni, che tra l'altro sono stupendi. Vedete, immaginate un turista, perché i turisti li visitano i nostri borghi. Bene, quando questo turista prende atto di essere in un posto isolato, dove non può navigare in rete, dove deve far fatica per ricevere o effettuare una telefonata, secondo voi, quel turista, che idea si farà del nostro territorio? Secondo voi, quel turista tornerà o farà buona pubblicità della nostra terra? Fermiamoci un attimo. Ci riempiamo tutti la bocca di paroloni, di intenzioni belle, spesso di chiacchiere utili o inutili, soprattutto in piena campagna elettorale. Poi, terminata quella, i problemi lì sono e lì restano. Non gliene frega niente a nessuno. Avremmo davvero tante cose da dirvi in tal senso, ma vogliamo però prendere un impegno. Queste tante cose, una alla volta, ve le racconteremo, tutte, dalla prima all'ultima. perché è arrivato il momento che la gente sappia, è arrivato il momento che la gente apre gli occhi e capisca dove sono le responsabilità. Salve a tutti, buona domenica e alla prossima.